Ciao, mi chiamo Viola, ho 25 anni e due sono le cose principali da sapere di me in ambito di innovazione. Una, che ho un background in filosofia, due, che ho cofondato Plino, che è una startup che utilizza l'intelligenza artificiale per l'analisi dei dati aziendali. Quindi, partiamo dal presente. Più che fare innovazione in Plino, siamo innovazione. Infatti, utilizziamo le AI generativa per permettere ai manager delle aziende di fare contabilità, finanza e controllo in maniera conversazionale. Il che significa trasformare i giorni di lavoro in una questione di qualche secondo, calcoli complessi in un'esperienza che è molto più immediata e semplice e tutto questo non sarebbe stato possibile farlo anche solo qualche anno fa. La seconda questione, la filosofia, potremmo dire che è qualcosa da collocare nel mio passato, ma in realtà fa parte di tutto il mio presente. Molto spesso mi viene domandato come mai io abbia scovolto così la mia carriera. Cioè, sei passata da filosofia, adesso costruisci software di intelligenza artificiale. E la risposta, in realtà, è che non l'ho mai fatto di sconvolgere. E questo penso che sia il principio dell'innovazione che voglio portare nel mio mondo, nella mia realtà, nella mia azienda. Cioè che l'innovazione non è un momento, non la fai una volta. E' più un movimento, cioè una sfera che non si ferma, che cambia, che fa parte di un dinamismo che comprende diverse competenze, diverse sensibilità, prospettive, assetti. E quindi tutto insieme porta a quella novità che è realmente nuova, che è realmente innovativa e che è forte nel mondo e nella realtà dei nostri tempi. E questo è quello che voglio portare avanti. Ed è tutto quello che sono. Grazie. Ciao.